Special Olympics sono cominciati una ventina d'anni fa e sono sempre in crescita. Quest'anno sono aumentati sia di numero i ragazzi che le gare. Puoi spiegare un po' come sarà la giornata? Quest'anno ci saranno 170 atleti e 19 centri di uni disabili o comunque centri disabili anche fuori dalla provincia di Pavia. Quest'anno rimane una cosa innovativa. Ci saranno le 60 metri piani, 20 metri per le carrozzine, il lancio del peso e la staffetta per tutti. Tutti i ragazzi saranno premiati? Assolutamente sì. Vogliamo dire la specificità, il senso di questa manifestazione? Il senso di questa manifestazione è chiaramente l'integrazione e l'uscire un po' dai centri e organizzare le manifestazioni anche al di là delle normali attività durante l'anno. Peraltro l'attività motoria che poi diventa di fatto la manifestazione è che tutto l'anno i ragazzi si preparano per queste gare, per cui per loro diventa un evento ormai consolidato e che si aspettano sempre. Il rapporto del Comitato di Rapporto Olimpico e di Special Olympics? Beh, niente, velocemente. Noi un plauso chiaramente ai servizi sociali che hanno ormai da 20 anni lanciato questa dimostrazione, questa manifestazione. non nascondiamo che da una manifestazione del genere possano uscire dagli atleti ad avviare le editività agonistiche e quindi il nostro impegno chiaramente è di essere presente. Io personalmente ringrazio, poi lascio la parola qui al rappresentante della FIDAL che collabora effettivamente sul campo che è importante alla buona riuscita di questa manifestazione. Mario Baschiera, Presidente del Comitato Provinciale, cosa diciamo di questa manifestazione? Allora, come federazione da diversi anni in provincia stiamo cercando di integrare nelle nostre manifestazioni anche attività parolimpica. Insieme a Imbres abbiamo creato diversi eventi, credo importanti per la parte parolimpica. questa manifestazione che si svolge a Pavia credo che sia una delle maggiori dal punto di vista di partecipazione di atleti parolimpici della nostra provincia. Il nostro apporto è un apporto tecnico e di supporto alla parte atletica dell'evento. Il ruolo nostro è orgogliosamente di assistere a questa manifestazione che è un fiore all'occhiello del Comune di Pavia e dei servizi sociali e questo fa onore a tutta la città e noi in quanto associazione deputata anche al trasporto dei pulmini del Comune per i servizi dei disabili siamo orgogliosi di esserci, saremo sempre vicini a queste manifestazioni che sono il fiore all'occhiello, ripeto, di Pavia e del Comune. Associazione Provinciale degli Alpini, siete sempre al fianco delle manifestazioni che si vengono svolte in Pavia e provincia, specialmente con i ragazzi giovani. Per quanto riguarda gli Special Athletic Olympies? Come gruppo Alpini siamo sempre orgogliosi di poter dare una mano a queste manifestazioni dove vengono coinvolti i ragazzi e poi specialmente questi ragazzi che gareggiano con gare un po' specifiche. Ripeto, siamo sempre a disposizione e ringraziamo l'organizzazione che ci coinvolge. grazie a tutti.